Presidente Guarneri, oggi un focus per fare il punto sul legame che esiste tra il mondo reale e il mondo virtuale. Sì, oggi abbiamo avuto l'onore di ospitare questo convegno, questo seminario tecnico-scientifico di questa nuova realtà, nuova realtà virtuale, il viaggio tra due mondi, che riguarda appunto il metaverso, questo territorio virtuale a cui pian piano ci stiamo adeguando e in cui pian piano ci stiamo avviando. È praticamente un mondo tutto particolare. Praticamente è stato organizzato dalle past presidenti della provincia di Agrigento e da due sezioni della provincia di Agrigento e due di quelle di Caltanissetta, coordinate dalla past presidente distrettuale e la professoressa Maria Cencitto e naturalmente sotto la guida della presidente distrettuale, l'avvocato Carmela Gabriella Lovue e ha coordinato il tutto, diciamo, anche dall'alto, sia la past presidente nazionale Cettino Liveri nonché la past presidente internazionale Giuseppina Seidita. Bene, questo è un mondo virtuale, un mondo virtuale dove noi che a volte può fare anche paura perché viene applicato all'ingegneria, all'economia, anche alle aziende e quant'altro e si parla di criptovaluta, di avatar e praticamente noi virtualmente stando a casa potremmo entrare a far parte di un concerto, territori così tutti virtuali di cui però bisogna anche stare attento e mantenere anche i piedi a terra. Oggi, diciamo, con una grande curiosità mi appresto a seguire questo convegno sul Metaverso perché la transizione digitale, quindi la digitalizzazione di tantissimi servizi se da un lato aiuta sicuramente, soprattutto per quanto riguarda le banche, le imprese, i rapporti commerciali dall'altro lato mi pongo il problema se vivere in un mondo virtuale anche per quanto riguarda i sentimenti che si possono interscambiare tra esseri umani non porti sempre più verso uno individualismo ed un egocentrismo e a una mancanza di empatia e di rapporti reali tra le persone perché credo che dalla diversità e dal confronto ci sia una crescita in termini culturali e in termini anche di vita sociale per cui, ecco, vivere in questo mondo virtuale del Metaverso mi lascia un po' così perplessa proprio per quanto riguarda i rapporti umani. Nella mia qualità di passi presidente distretto Sicilia della FIDAPA BPW Italy mi presento, sono Maria Ciancitto con tanto onore, con tanta gioia ho coordinato questo convegno tanto importante che parla di digitale, di virtuale e nella realtà contemporanea tanto, tanto importante mettendo assieme tutte le sezioni della provincia di Agrigento e due sezioni della provincia di Caltanissetta abbiamo avuto presenze importanti la presidenta nazionale Fiammetta Perronia la passepresidente nazionale Cettino Oliveri la presidenta distrettuale Carmela Lobue è stato un convegno veramente interessante veramente importante anche perché è stato realizzato con la collaborazione degli enti, delle istituzioni, del Polo Universitario del professore Tuzzolino che ci ha tanto collaborato e ha cooperato con noi la collaborazione con gli enti e con le istituzioni prevista dal nostro statuto FIDAPA per cui il convegno di oggi ha una grande valenza non soltanto associativa ma anche istituzionale siamo particolarmente lieti di avere sponsorizzato questa importante iniziativa che parte dalla FIDAPA a noi già particolarmente nota come associazione perché oggi si consolida un rapporto di collaborazione già risalente a qualche tempo fa siamo stati particolarmente lieti anche perché hanno partecipato partecipano autorevoli rappresentanti sia del distretto che del multidistretto ma non solo perché viene affrontato un argomento che nella sua complessità, nella sua articolazione nella sua difficoltà rappresenta un momento di riflessione non solo per le socie di questa associazione ma anche per molti cittadini e cittadine numerosi presenti in sala io non entro nel merito di un argomento particolarmente delicato ma confermo la piena disponibilità del Consorzio Universitario a sostenere queste iniziative perché contribuiscono tangibilmente e concretamente alla crescita culturale, sociale, economica e perché no anche imprenditoriale di questo territorio che ha bisogno di un aiuto che viene fornito da un lato dalle associazioni, dalle fondazioni dalle istituzioni, dai varienti e poi per quello che ci riguarda anche dal Consorzio Universitario che è l'onore di presiedere Allora, il Polo Universitario di Agrigento è veramente molto interessato a queste iniziative quindi la mia partecipazione a rappresentare l'Università per questo convegno è molto convinta e sono veramente lieto di rappresentare l'Università nel senso di aprire questo mondo anche alle associazioni a tutte le istituzioni che sono presenti nel territorio e che fanno un lavoro meritorio per quanto riguarda diciamo lo sviluppo culturale e anche il miglioramento delle attività professionali sono delle attività a volte ritenute invisibili minori oppure che non hanno la giusta evidenza sistematizzata sistematizzata all'interno di un rapporto territoriale io credo che l'Università debba saper cogliere questi segnali e fare in modo che possano inserirsi all'interno di una cornice più ampia che è quella dello sviluppo culturale del territorio e quindi sono abbastanza convinto di sposare queste attività e offrire la collaborazione dell'Università per tutte le iniziative che possono nascere che si svolgeranno in questo periodo per rendere tutto molto più evidente e molto più organico allo sviluppo del territorio allo sviluppo del territorio che si svolgeranno allo sviluppo del territorio esilove mi